L'assessore regionale all'ambiente Monia Monni ha illustrato all'aula attraverso un'informativa le linee guida del piano regionale su rifiuti e bonifiche. Era presente solo la maggioranza, i gruppi di opposizione, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo misto Toscana domani, hanno infatti abbandonato l'aula prima della presentazione dell'assessore Monni, in segno di protesta per le modalità con cui la Giunta ha gestito la presentazione in aula dell'informativa della Giunta regionale sul piano rifiuti, ad annunciare e motivare la scelta, a nome delle opposizioni di abbandonare l'aula, il consigliere di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi. Nell'informativa l'assessore Monni ha spiegato gli obiettivi della regione, che attraverso l'aggiornamento del piano regionale su rifiuti e bonifiche, si prepara anche a recepire gli obiettivi delle nuove direttive europee. L'obiettivo principale è quello di ridurre la produzione dei rifiuti e spingere sul riuso, puntando con decisioni ad azioni di valorizzazione delle esperienze virtuose e di preparazione a riutilizzo. Sono molto contento stamani dell'approvazione del step molto importante del bando per il piano dei rifiuti e devo dire che il fatto di aver visto l'approvazione in un dibattito sereno con 25 consiglieri che hanno votato a favore rispetto ai 41 consiglieri che compongono il consiglio regionale è stato un momento che incoraggia il lavoro della Giunta, il lavoro dell'amministrazione e dà al piano dei rifiuti una prospettiva e una strategia che può portare in Toscana l'autosufficienza progressiva senza dover fidarsi su quello che poi sono i trasporti fuori regione. Innanzitutto preme stigmatizzare l'atteggiamento della minoranza che si è sottratta dal poter dare le indicazioni e gli indirizzi che il Consiglio dà per la redazione di questo importante strumento di pianificazione e di programmazione. Abbiamo avuto la conferma che più che rilevare vizi procedurali il loro atto che è stato proposto ieri di pregiudiziale è un atto di carattere politico teso a strumentalizzare quello che è l'iter che stiamo seguendo per poter intralciare e quantomeno ritardare la redazione del piano e poi magari per poter dire che la Toscana non ha un piano dei rifiuti e delle bonifiche. Mi dispiace anche sentir strattonare quello che è il ruolo del segretario regionale che ha tutta la nostra stima ma che non è chiamato a dare dei pareri di legittimità. Eventualmente come ben sanno o come dovrebbero sapere se vizi di congruità ci sono tra i regolamenti e lo statuto del Consiglio regionale che è stato richiamato dovrebbero essere trattati dal Collegio di Garanzia. Detto questo noi invece siamo stati al merito, abbiamo preso atto della delibera di giunta che ci ha formalizzato di aver seguito correttamente nel rispetto di tutte le leggi e di tutti i regolamenti quelli che sono gli atti che è andata a proporre al Consiglio. Nel merito noi abbiamo detto cose chiare apprezzando e ringraziando anche l'assessore per la sua comunicazione. La Toscana ha bisogno di anticipare quelli che sono gli obiettivi dati dall'Europa per quanto riguarda la raccolta differenziata e per quanto riguarda il riciclo e il riuso dei rifiuti. Ha bisogno di una dotazione impiantistica che la renda autosufficiente non soltanto come regione ma anche nei vari territori con un occhio anche ai rifiuti speciali che vengono prodotti dalle nostre aziende per dare quindi una risposta in termini anche di competitività e di bilancio ambientale ai rifiuti speciali che da lì provengono. un'attenzione particolare alla sostenibilità delle tariffe perché le famiglie ovviamente soprattutto in fasi difficili come queste hanno comunque bisogno di non essere ulteriormente gravate. Nel percorso che si è aperto da questa mattina dalla collaborazione tra la Giunta e il Consiglio regionale sicuramente la Toscana avrà la dotazione di questo importante strumento di programmazione e pianificazione che sarà molto utile ai cittadini, alle imprese, al suo sistema economico e sociale. Come opposizione abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul piano dei rifiuti perché ritenevamo e riteniamo che la procedura che sta portando avanti la Giunta sia sbagliata nella forma e nella sostanza. Dopo giorni in cui rispetto a 15 giorni fa ci era stato promesso un approfondimento anche tecnico che sciogliesse il nodo, ieri prima del Consiglio il segretario generale in conferenza dei capigruppo ha detto che rispetto alle previsioni dell'articolo 48 i rilievi delle opposizioni erano fondati. Nonostante questo il Partito Democratico ha voluto andare avanti spinto da una delibera del Presidente Gianni che Bontassù ha ritenuto di superare l'eccezione e i rilievi anche del segretario generale dicendo sostanzialmente che loro hanno ragione e non ritengono visto lo stato dell'arte, visto lo sviluppo ormai della procedura di poter tornare indietro e ripartire da capo. Da notare che gli indirizzi del Consiglio regionale dovrebbero arrivare prima che inizi formalmente la procedura e invece il Presidente Gianni lo ha ribadito ieri in aula lo ha ribadito di fronte alle telecamere considera ormai il piano dei rifiuti già avviato. La questione grave, gravissima che ne è derivata con le parole anche del capogruppo Ceccarelli in Consiglio è che il parere del segretario generale che è la massima autorità dell'ufficio legislativo che sta dietro ai lavori del Consiglio sono state derubricate a autorevole opinioni facendo prevalere quindi il pensiero dei dirigenti della Giunta sull'organizzazione interna del Consiglio. Si tratta di un ribaltamento dei rapporti di forza fra Giunta e Consiglio che per le opposizioni è inaccettabile e per questo motivo oggi abbiamo deciso di abbandonare l'aula rispetto alla discussione complessiva del piano dei rifiuti chiedendo al Presidente del Consiglio che naturalmente tuteli le minoranze ma tuteli il ruolo stesso del Consiglio rispetto alla Giunta. Nei prossimi giorni valuteremo anche tecnicamente e anche giuridicamente eventuali ulteriori nuove iniziative. Qui si tratta di una forzatura della Giunta che non c'è mai stata, ci risulta prima in questi termini nei confronti della struttura tecnica del Consiglio regionale perché vogliamo ricordare che il Consiglio regionale è sovraordinato rispetto alla Giunta ed è soprattutto dovrebbe essere autonomo e indipendente una volta che gli atti gli vengono trasmessi per essere istruiti. In questo caso invece evidentemente l'importanza era tale la voglia e il ritardo probabilmente maturato è tale e tanto che la Giunta ha inteso passare sopra anche gli organi tecnici del Consiglio regionale e questo per noi naturalmente è inaccettabile e ripeto valuteremo nei prossimi giorni che margini ci sono anche per fare iniziative di carattere formale. A inizio di questa legislatura Eugenio Gianni disse chiaramente che lui voleva collaborare con le opposizioni. Ecco, sta facendo l'esatto opposto. Allora trasformi infatti quello che lui aveva promesso a inizio legislatura perché in questo momento lui sta depauperando il Consiglio delle proprie competenze e dei propri diritti perché quando la Giunta arriva e si impone sul Consiglio ed è vergognoso che qualcuno dica che il segretario generale dà delle opinioni perché il segretario generale non è pagato per dare delle opinioni il segretario generale è quello che garantisce il Consiglio e arriva un dirigente di Giunta che di fatto fa anche la parte del legislativo e non è un legislativo tra l'altro facciamo nome e cognomi tanto è agli atti questo dirigente di Giunta è Edo Bernini che è indagato sullo scandalo Cheu magari sarà innocente però comunque insomma noi vederci bypassati da organi di Giunta di cui in questo momento abbiamo anche qualche riserva evidentemente insomma non ci troviamo proprio a nostro agio se i consiglieri del PD sono felici di accettare di non contare assolutamente niente all'interno dell'assiste regionale l'opposizione non fa la parte dello zerbino della Giunta e quindi qui bisogna essere chiari o ci danno delle informazioni ci danno dei dati ci danno qualcosa su cui lavorare o altrimenti noi ad oggi non possiamo dire quali sono le azioni che faremo ma sicuramente contrasteremo il piano dei rifiuti fino in fondo come è già successo nella scorsa legislatura con la riforma della sanità e come succede spesso con le grandi riforme attenzione il piano rifiuti è in ritardo rischiamo di andare in procedura di infrazione perché il PD lo doveva già emanare la scorsa legislatura quindi la colpa dei ritardi ricadrà sui cittadini e ancora una volta oggi si fanno delle forzature ma non si arriva a voler collaborare a fare il bene dei toscani bisogna cercare di spiegare bene cosa sta succedendo fuori proprio perché può sembrare quella che sia normale di atriba tra maggioranza e opposizioni ma non è così in un colpo solo si è gravemente minata l'autonomia del Consiglio regionale rispetto alla giunta e facendo questo si è mancato gravemente di rispetto non a tutti i colleghi dell'opposizione ma si è mancato di rispetto all'intero Consiglio quindi a quelli della maggioranza e si è mancato di rispetto anche al massimo organo al soggetto che rappresenta il vertice legislativo di quell'organo che è autonomo rispetto alla giunta e che è il segretario generale perché così facendo con una delibera emessa all'ultimo momento si è in pratica detto che se la giunta dice che l'iter procedurale che ha seguito va bene praticamente se lo è autocertificato e questo non è accettabile perché è lesivo non soltanto della dignità di tutte le persone che sono a Palazzo Panciatichi e che lavorano per cercare di produrre degli atti che siano il più possibile rispondenti a quelle che sono le esigenze di una cittadinanza degli abitanti della Toscana ma soprattutto perché così facendo si creano devunus legislativi gravissimi abbiamo appreso che le stesse modalità di esame di informative sono state utilizzate anche in passato e ci è stato chiesto adesso che abbiamo consapevolezza che questo danno è stato fatto di continuare ugualmente con questa prassi che ormai era inveterata e noi in coscienza e con uno istante lettuale diciamo che questo non è possibile e secondo noi non doveva essere reso possibile si sta dibattendo adesso in aula un atto senza le presenze delle opposizioni che hanno presentato degli atti di indirizzo tutti molto diversi tra di loro perché ciascuno di noi Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia ha posizioni molto diverse su rifiuti ma sappiate che quegli atti di indirizzo che noi avremmo presentato sarebbero stati carta straccia perché in realtà gli indirizzi sono già stati dati nel momento in cui sono stati presentati i bandi già da mesi quindi significa che adesso noi siamo ridotti non soltanto denigrati dal punto di vista della dignità per cui la Giunta ci dice cosa dobbiamo fare e come ma addirittura quello che presentiamo è carta straccia siamo dei passacarte per la Giunta e questo è inaccettabile anche dal punto di vista della dignità e del rispetto delle persone che fuori si aspettano che in questo consesso siano illustrate e siano portate avanti delle iniziative che avranno effetti reali non ci sarà nessun effetto reale per il modo in cui è stato portato avanti quindi il nostro punto di vista è tecnico, politico innanzitutto dal punto di vista dei contenuti poi ci riserveremo di fare tutte le nostre osservazioni quando sarà riportato nel giusto binario questo percorso legislativo ve lo ripeto sta succedendo una cosa molto grave in questo dei Consigli la Giunta ci sta imponendo delle forme e dei modi che non ci sono propri e chiediamo al Presidente del Consiglio di tutelare tutti i consiglieri regionali maggioranza e opposizione opposizione che oggi è qui a protestare fondamentalmente per questo esiste una questione pregiudiziale tecnica sulla quale tutte le opposizioni si sono espressi e avevano chiesto non alla Giunta ma a quello che è la figura picale del Consiglio regionale il responsabile dell'avvocatura regionale se su quella pregiudiziale tecnica che il Consigliere Capecchi aveva portato in aula 15 giorni fa, non ieri quella pregiudiziale avesse un fondamento giuridico rispetto a quello dopo 15 giorni siamo rientrati in aula e abbiamo scoperto che su quella pregiudiziale non si è espresso il Segretario Generale ma ci hanno portato la mattina stessa una delibera di Giunta cioè l'ente stesso che ci ha portato l'informativa cioè la Giunta ci ha detto che quell'informativa aveva seguito un iter corretto e ci mancherebbe che la Giunta avesse smentito il proprio assessore poi abbiamo fatto delle riunioni tecniche con il Segretario Generale e abbiamo capito che quei fondamenti giuridici che il Consigliere Capecchi aveva portato in aula erano effettivamente fondati e proprio perché erano fondati oggi tutte le opposizioni non soltanto una parte o qualche opposizione ha ritenuto opportuno abbandonare l'aula e visivamente, plasticamente basta andare a vedere in aula vi è una discussione all'interno della quale sul piano dei rifiuti cioè sulla pianificazione strategica urbanistica quasi più importante della regione toscana il PD discute da solo ma discute talmente da solo che esiste un tema del tutto politico che per la prima volta dopo un anno la Giunta ha messo una questione di fiducia ha detto ai consiglieri del Partito Democratico a prescindere da quello che il Segretario Generale vi ha detto, cioè che esiste molto probabilmente una fondatezza giuridica sulla pregiudiziale dovete votare questo atto dovete venire oggi in aula e votare l'atto della Giunta perché se così non fate si va tutti a casa questo è il riassunto una questione di fiducia sul quale tutti i consiglieri di opposizione hanno detto ma qual è il problema? certamente non stiamo qua né a scaldare le poltrone né a mantenere lo stipendio siamo pronti ad andare a casa e siamo talmente pronti ad andare a casa che siamo usciti dall'aula e abbiamo detto ai consiglieri del Partito Democratico fate lo stesso lasciate la Giunta da sola sfiduciate la Giunta su quella che è una questione tecnica perché fra tre anni può darsi e ci ritroveremo col piano dei rifiuti dove qualche magari consigliere o tutti i consiglieri o qualche cittadino che si sente leso nei propri diritti fa riconzaltare e quel piano viene annullato annullando una pianificazione di tre anni mettendo in discussione la serietà dell'ente legislatore del Consiglio regionale che siamo noi stessi cioè tutti i consiglieri mettendo anche in dubbio che i contenuti di quel piano fossero corretti e che in Regione Toscana si fanno le cose per bene scome per noi viene prima l'onestà intellettuale e anche l'onestà affattiva siamo pronti a a tornare tutti quanti a casa a ripresentarci alle elezioni b a fare tutti i percorsi come hanno detto bene i consiglieri prima che riteniamo più opportuni per denunciare da un lato politicamente quello che è un vulnus che non abbiamo mai visto in quest'Aula cioè il Consiglio regionale viene esautorato delle sue funzioni perché è la Giunta che ci dice quello che dobbiamo fare per noi diventa inaccettabile domani a chi ci rivolgeremo noi quando abbiamo una questione che riguarda il Consiglio e i consiglieri alla Giunta o al Segretario generale noi vogliamo ancora continuare a fare quello che facevamo prima e nelle scorse legislature cioè rivolgerci al Segretario generale del Consiglio regionale naturalmente non alla Giunta e secondo tema naturalmente quando vi sarà il momento entreremo nel merito dei rifiuti ognuno di noi con le posizioni come ha detto prima bene la Presidente Galletti diverse perché abbiamo posizioni diverse ma su un principio tutti quanti condividiamo il nostro stare in Consiglio essere consiglieri regionali e rappresentanti dei cittadini che se vi è anche soltanto un dubbio che le procedure non sono corrette o le procedure ci fermano o non avranno mai il consenso delle opposizioni perché per noi la legalità l'onestà viene prima e soprattutto viene prima il rispetto nei confronti degli elettori che ci hanno mandato qua perché siamo pronti a tornare a casa con la nostra consapevolezza di aver fatto le cose per bene sicuramente siamo di fronte a un vulnus come è stato detto assolutamente evidente un vulnus che riguarda proprio l'equilibrio tra Consiglio e Giunta che in questo momento si è totalmente disperso per quanto riguarda le iniziative formali è chiaro che questo dovrà essere condiviso con tutti i capi gruppo è evidente che ci auspichiamo quantomeno che sia formalizzato il parere del segretario generale questo sì perché per noi diventa importante certificare ciò che sta accadendo che forse agli occhi dei cittadini può sembrare legato squisitamente a dinamiche interne in realtà qui si tratta del rispetto della legalità del rispetto del ruolo dei consiglieri regionali che non sono delle comparsi in questo momento ma che devono essere attori di una concertazione che parte dal Consiglio perché il piano dei rifiuti non si fa con l'arroganza non si fa colpi di atti della Giunta che tra l'altro presentano anche profili di illegittimità detto questo c'è un altro aspetto noi rischiamo di perdere il treno del PNRR il bando nazionale è in imminente scadenza la Regione Toscana è in estremo ritardo sulla pianificazione questo è il dato vero quindi non solo c'è un problema di legalità mettiamola così ma c'è anche un problema di tempistica che non è da sottovalutare il treno del PNRR lo prendiamo adesso oppure siamo compromessi soprattutto sotto il profilo degli investimenti ma un passaggio importante che consolida la maggioranza tra Partito Democratico e Italia Viva sostegno della Giunta inizia ed entra nel merito la discussione sul piano dei rifiuti i nostri indirizzi sono un atto fondamentale che consentiranno di indirizzare l'attività verso il riutilizzo dei rifiuti la transizione energetica deve essere un elemento portante il riutilizzo delle materie deve diventare un elemento determinante in una logica di economia circolare soprattutto la produzione di nuove fonti di energia sempre da rifiuti l'utilizzo delle aree industriali ma soprattutto un doppio livello di verifica che possa essere locale insieme a quello di carattere regionale pensiamo alla possibilità di assumere decisioni solamente se c'è un doppio livello di condivisione questi sono alcuni degli indirizzi che abbiamo portato in aula dentro una discussione che ha trovato la maggioranza compatta a sostegno di una discussione che ci vedrà impegnati nei prossimi anni questo è uno degli atti più importanti che questa legislatura dovrà approvare e ci vogliamo misurare come atto di governo rispetto agli impegni appunto assunti con i cittadini toscani grazie a tutti grazie a tutti